buongiorno sono chiara estetista professionale specializzate in trattamenti viso oggi vi mostrerò il trattamento maschera oro della linea suv al collagene il trattamento indicato per pelli secche o miste mature sensibili pelli che necessitano di rivitalizzazione è ideale per contrastare rilassamento dell'ovale macchie e discromie pelle grigia stanca dal colorito irregolare e infine ma non per importanza nel caso di rughe iniziamo con la detersione con il latte detergente rivitalizzante applico il latte sulla pelle asciutta e massaggio brevemente tolgo residui del latte con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua tiepida e infine applico il gel detergente per il viso suvr sulla pelle inumidita e massaggio brevemente risciacquo infine il gel con acqua tiepida il passaggio successivo è l'esfoliazione con il peeling cremoso eseguo l'esfoliazione per circa 35 minuti nel caso di pelli grasse o miste il peeling può essere un po più vigoroso mentre nel caso di pelli secche sensibili il peeling deve essere eseguito delicatamente risciacquo il peeling con acqua tiepida le particelle di peeling sono difficili da pulire si può usare quindi un po di garza inumidita con acqua tiepida dopo aver rimosso il peeling andiamo ad applicare un tonico lenitivo verso una piccola quantità del tonico sulla mano e tampono delicatamente sulla pelle del viso apro ora la maschera oro suvr verso il siero in una ciotola successivamente procedo con l'applicazione del siero della maschera massaggio con il siero il viso collo e decollet e partendo dal decollet e con movimenti dal basso verso l'alto sulla pelle ancora umida andiamo ad applicare il collagene naturale platino suvr è arrivato il momento di applicare la maschera oro tengo in posa la maschera dai 15 ai 20 minuti al termine della posa procediamo con la rimozione della maschera una volta rimossa la maschera andiamo a massaggiare i residui di siero rimasti sul viso ecco poi un viso luminoso rigenerato andiamo quindi ad applicare il siero contorno occhi infine andiamo ad applicare il siero concentrato viso collo e decollet ha una sensazione di idratazione profonda la pelle morbida liscia e luminosa un colorito proprio sano sono davvero soddisfatta grazie a tutti